la la chiesa di seguire i foglietti mi davano quell'offerta come si usa tutta un tratto avete sentito tutta un tratto boati polderone grida travestiti finimonde insomma questione apocalittica siamo qui ancora non sappiamo anche se fosse stato uno solo sono tanno anche se fosse stato uno solo era tutto il paese per questa creatura molti bambini si molti 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 genitori era accorsata la chiesa perché c'era la missione c'era la messa del spettino come ogni domenica è l'unico posto e poi la chiesa era il centro del paese trova la famiglia unita prega canta e torna alle case